Allora tutti ragazzi in questo nuovo video oggi siamo qui con Call of Duty Black Ops Dovrei averci prima azzeccato Esatto ragazzi si si è quello lì 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 Ragazzi come avrete letto dal titolo oggi andremo su Call of Duty A fare una bella partita dopo tanto tempo che non ci giocavo perché dovevo aggiornarlo E nulla L'ho aggiornato e ho deciso di farci un bel video Facciamo un giro a sto qua Ok partita classificata Oh cos'è questo qua? Bello Ok però io il video non lo voglio Grazie Oh cos'è? Tocca per continuare Dai papagallo su Dai che voglio giocare Stagione 4 Madonna ragazzi dobbiamo fare così quanti giorni Ok ma iniziamo Come potete vedere mi sono chiamato Ok Pertino basso Pertino basso 0 2 ragazzi andatemi a seguire su Instagram Che voglio arrivare a 2k Sono a 1,669 Dovrei Dovrei essere sì Ok iniziamo a giocare Ah questo qua ragazzi è un gioco online Quindi ci sta dai Gioco Ok ok Poi ci sono dei nomi strani che non capisco Spero che qualcuno ci abbia il microfono attivo Così almeno possiamo parlare E' più figo e bianfilo anche bene Orco cane Non c'è la musica Attiviamo il microfono Ok Vabbè lasciamo così Adesso metto 2 C'è la più sto Ah però c'è c'è qui Vabbè lasciamo così Dai dai Ok 3 2 1 Ragazzi Si inizia Ok Vamos Vamos C'è qualcuno col microfono attivo Oh C'è nessuno Ostica E via Prima combo mia Attenzione Attenzione Andiamo qua C'è qualcuno E' tornato indietro Qua non c'è nessuno Però io ce l'ho dello stesso Qua c'è Oh Ragazzi non me ne ero accorto Ce l'avevo dietro C'è stato C'è stato un Pirla C'è stato un Pirla C'è stato un Pirla Ma qua non si riesce a abbassare I suoni Gli effetti Gli suoni Grande L'hai ucciso Testini R rata operating Oh Dove sto tornuto Per questo C'è stato Eh voli scappare Tu ma invece con Open Lo scappi Anche tu Con Open Non scappi Open 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 Lo squartatore credo che dobbiamo arrivare a 5 orco cam dove è sto stronzetto qua vabbè c'è una sei morto ciuppa ah scappi eh perché c'hai paura di okram però tanto lontano non ci vai aspetta adesso lo seguo attenzione 2 combo attenzione 15 a 15 ostacosa ma no non ci credo c'è ragazzi l'unico colpo che mi era rimasto dentro il caricatore vabbè 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 facciamo così stato a vedere no voglio questo ok ragazzi abbiamo chiamato ok una di grazie amigos ma dove vuoi andare ma vai dentro ma vai a letto anche te dai carica carica sono pirla ma perché non guardo mai dietro oh stiamo vincendo noi ragazzi almeno credo non mi ha sparato oh sta vincendo loro stronzi maletti no 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 qua non va mica bene ragazzi dobbiamo metterci lì e farei pinogino però non ci sono più che stile sono giampierica buongiorno buongiorno e la peppa cos'è stato la bomba nucleare oh ciao fanculo mi ha dato fuoco mi ha dato fuoco mi ha dato fuoco te ok cosa hai detto la mia cap... porco ca... cioè io raga ho cercato di allontanarmi da sto qua ma mi ha dato fuoco lo stesso vabbè buongiorno io vado da parte a posto chi è sto stronzetto qua? com'è che si salta? no così no vuoi sbagliare che poi mi uccido un'altra volta è la peppaia! io c'ho ancora il drone da usare però c'è... oh vai avanti ma se io voglio andare su ce va? certo ce va... olle è stata una cosa... è stata una cosa inutile da so ok io sono qua su ma mi hanno detto che c'è una mira bellissima ecco ce n'è una ma va dentro ma ragazzi ce ne manca una adesso vamooos ok però adesso devi scappare però si ho capito che il tempo sta per scadere però... no ragazzi siamo a 30 minuti aspetta che ricarico va la metti caso che trovo uno papapapapapapapapapapapa vai in faccia Uccisioni rimaste ma cosa spara ragazzi stanno vincendo loro ancora porco boi ma scappa 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 aiuto mi faccio andare avanti adesso uso il drone basta mi sono rotto via vai la vola sto dicendo cosa mi sparata me ho la bomba che fortuna raga questa questa è questa battaglia mi dispiace ma hanno vinto ah raga si ok non voglio vedere il video ma guardate dove li va a sparare spari in testo ma mica ok ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto lasciate un like iscrivetevi al canale scrivete sul mio profilo instagram che vi lascio qui ocra-02 ci vediamo al prossimo video ciao ciao